Gli allegriani sono peggio degli interisti, sono più falsi degli interisti, sono più sporchi degli interisti, sono più imbecilli degli interisti, o meglio, quantomeno sono uguali agli interisti. Superare gli interisti è un po' difficile, sono troppo cretini, troppo stupidi, troppo falsi, troppo bugiardi, troppo artisti delle fake news. E così sono gli allegriani. Da sempre ho professato la mia partecipazione ai no max, perché in Italia, per fortuna, o meglio, nello schieramento dei tifosi della Juventus ce ne sono tantissime. Io come direttore di tutto Juve.net e ancora prima come tifoso e poi come sportivo mi sono dichiarato no max per effetto dell'imbecillità di questo allenatore, della dannosità di questo allenatore, di questo presuntuoso arrogante, di questo fortunato, di questo invertebrato che non si aggiorna, che allena soltanto perché è amico di Agnelli, che fa girare la voce che ha rifiutato il Real Madrid, ma il Real Madrid che? Ma non dicesse cazzate questo invertebrato cretino. Allora quest'anno ha fatto perdere letteralmente lo scudetto alla Juventus. Perché dico che gli allegriani sono peggio degli interisti o meglio uguali agli interisti? Perché usano la stessa tattica, quella delle bugie, delle fake news, delle notizie vergognose. Successivamente spiegheremo anche perché lui ha fatto letteralmente perdere lo scudetto alla Juventus. E ne dico solo una delle motivazioni che adducono gli allegriani per difenderlo. Ha portato due volte la Juventus in finale di Champions, a prescindere dal fatto che una finale è una sconfitta. Quindi è la vittoria che si conta. Poi in due finali di Champions ha preso ben sette pappine, sette, sette gol in due finali. Quindi figura di merda a livello nazionale. Uno che a livello internazionale ha zero titoli, quindi se fosse stato bravo avrebbe vinto quantomeno qualche titolo. È palese ed è chiaro ed evidente che ha vinto con la Juventus in un momento in cui non c'erano avversari, in cui la Juventus faceva man basso di tutto. Era molto camaleontica nel fare la squadra, ma soprattutto era aggressiva per effetto del fatto di calciopoli. Allegri, per te sia, non ne parliamo. No Max, è questo l'imperativo. Alla prossima.